Quindi il maneggio per te è una seconda casa? Sì. Monto cavallo perché mi piace, mi piacciono i cavalli. Li ho scoperti diciamo per caso, perché io non sono italiano. Vengo dall'Ucraina. Quando sono arrivato qua che sono stato adottato e un giorno mia madre mi ha portato in un maneggio che c'avevo vicino a casa e lì feci una passeggiata a cavallo. E poi di lì piano piano mi sono incominciato a piacere e lì andavo tipo il sabato o la domenica, una volta a settimana. Sono stato un paio di anni là, in quel maneggio e poi ho scoperto questo posto grazie a un amico che veniva a montare qua. E di lì me ne sono innamorato stando in questo posto e ora sono quasi cinque anni che sto qua. Senti, cosa sono per te i cavalli? Per me sono la vita. Cosa significa per te lavorare in squadra? Condividere innanzitutto i risultati positivi e negativi. fare squadra ad esempio, supportare soprattutto gli uni agli altri e moralmente soprattutto quelli quando non ci sono tanto. Se ad esempio sono un po' più tesi, supportarli moralmente, aiutarli in modo che vada tutto bene. E' questo. Respiro e usa tutti i 30 secondi. Ok. Senza emozionarti, tranquillamente, non stiamo parlando di esame a nessuno. E la so, vorrei un'emozione. Sei pronto? Sì. Vai! Ciao, piacere, mi chiamo Ivan, vengo da Leporano, ho 18 anni e sono un ragazzo determinato, vorrei essere preso nel campus per una questione di crescita e spero che mi apprendiate. Ehi. E basta. Andrà avanti, eh. Ehm. Stop! Ehm. 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 Ehm.